остановite здесь пожалуйста fermati qui, per favore fermati qui, per favore повernite направо, на следующем перекрестке girare a destra al prossimo incrocio girare a destra al prossimo incrocio какая хорошая идея che buona idea che buona idea che buona idea я работаю здесь lavoro qui lavoro qui я вас плохо слышу non riesco a sentirti molto bene non riesco a sentirti molto bene можешь подвести меня puoi darmi un passaggio puoi darmi un passaggio puoi darmi un passaggio capisco che colpo sia per te capisco che colpo sia per te chi è lei chi è lei sei libero al momento sei libero al momento mi dispiace mi dispiace sono occupato mi dispiace sono occupato cosa ne pensi di questo 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 io этого ne понимаю non capisco non capisco non capisco non capisco pozvani chiamami chiamami aspettando che tu mi dica cosa fare aspettando che tu mi dica cosa fare fa molto caldo fuori oggi fa molto caldo fuori oggi è vero è vero è vero na ulice idio d'oggi sta piovendo fuori sta piovendo fuori sta piovendo fuori sta piovendo fuori mi congratulo con voi mi congratulo con voi mi congratulo con voi chi è Chi è? O чем вы думаете? A cosa stai pensando? Очень рад за вас Molto felice per te Molto felice per te Я сожалею Mi dispiace Mi dispiace Извините, я хочу сделать заказ Mi scusi, voglio fare un ordine Mi scusi, voglio fare un ordine Какой чудесный день Che bella giornata Che bella giornata Come va? Come va? Вы так не считаете? Non credi? Non credi? Подскажите, пожалуйста Как мне найти этот адрес? Potete dirmi come trovare questo indirizzo? Potete dirmi come trovare questo indirizzo? Это болid Fa male Fa male Fa male Кстати, вы правы A proposito, hai ragione У нас все как обычно У нас все как обычно Я не согласен с вами 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 Ci vediamo sabato. Come stai? Sono così felice di vederti di nuovo. Cosa hai detto? Non mi sento bene. Puoi farlo di nuovo? Puoi farlo di nuovo? Napišite to здесь. Scrivilo qui. Scrivilo qui. Il mio turno. Il mio turno. Che cosa significa questo? Che cosa significa questo? Potresti parlare un po' più lentamente? Potresti parlare un po' più lentamente? Pozelui me. Baciami. Baciami. No, grazie. Non ho bisogno di niente. No, grazie. Non ho bisogno di niente. No, grazie. Vi понимai ti mi ne? Mi capisci? Mi capisci? Mi capisci? Вы знаете, что это? Sai ke cose? Sai ke cose? Что ты знаешь об этом? Koza ne sai tu? Koza ne sai tu? Открой дверь. Открой дверь. Добрый день. Буан померий. Буан померий. Мы давно не виделись. Мы не увидимся за много времени. Мы не увидимся за много времени. Я закрою окно. КОНЕЦ КИУДЕРО ЛА ФИНЕСТРА. КИУДЕРО ЛА ФИНЕСТРА. Я вас не понимаю. НОН ТИ КАПИСКО. НОН ТИ КАПИСКО. Ты живешь далеко отсюда. НЕ ДАЛЕКО. ВИВИ ЛОНТАНО ДА КУИ? НОН ЛОНТАНО. ВИВИ ЛОНТАНО ДА КУИ? НОН ЛОНТАНО. Мы опаздываем. СИАМО И РИТАРДО. СИАМО И РИТАРДО. Простите, что опоздал. СКУЗАТЕ ИЛ РИТАРДО. СКУЗАТЕ ИЛ РИТАРДО. Мне жаль, что так случилось. МИ ДИСПИАЦЕ ПЕР КУЕЛО КЕЕ СУЦЕССО. МИ ДИСПИАЦЕ ПЕР КУЕЛО КЕЕ СУЦЕССО. Я ТОЖЕ. АНКЕ А МЕ. АНКЕ А МЕ. ПОМЕСТИТЕ ЭТО ТУДА. МЕТТЕРЛО ЛИ. МЕТТЕРЛО ЛИ. А МОЖНО МНЕ ТОЖЕ НЕ МНОГА СОКА. ПОССО АВЕРЕ АНКЕ УН ПО ДИ СУКО. ПОССО АВЕРЕ АНКЕ УН ПО ДИ СУКО. ПО ДО СВИДАНИЕ. АДДЮО. АДДЮО. Я ПРОСНУЛСЯ РАНА. МИ СОНО СВЕЛЛИАТО ПРЕСТО. МИ СОНО СВЕЛЛИАТО ПРЕСТО. СПАСИБО ЗА ВАШУ ПАДДДЕРШКО. ГРАЦИЕ ПЕР ИЛ ВОСТРО СОСТЕННО. ГРАЦИЕ ПЕР ИЛ ВОСТРО СОСТЕННО. ХРАЦЩО СПАЛОСЬ, МИЛЫЙ. ГРАЦИЕ ДОРМИТО БЕНЕ, ТЕЗОРО. ГРАЦИЕ ДИ ТУТТО. ГРАЦИЕ ДИ ТУТТО. ГРАЦИЕ ДЕ netТО. ГРАЦИЕ ДИ ТУТТ. ГРАЦИЕ ДИТА. ГРАЦИЕ ДИТА. ГРАЦИЕ ДИТА. ГРАЦИЕ ЗА НАЛОСЯ. Posso venire con te? Posso venire con te? Dobry Vicer Buonasera Buonasera Atkudo vy? Da dove vieni? Da dove vieni? Что ty děláš? Cosa stáj facendo? Cosa stáj facendo? Je iz большoga goroda. Vengo dalla grande cittá. Vengo dalla grande cittá. Мне здесь нравится. Mi piace qui. Mi piace qui. Posso probarlo? Posso probarlo? Zato. 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 Dipende. Zato. 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 Aspettiamo ancora un po'. Sto aspettando fuori. Sto aspettando fuori. Mi piace guardare film la sera. Mi piace guardare film la sera. Spasibo, che ci aspettavano. Grazie per l'attesa. Grazie per l'attesa. Все правильно. Va bene. Va bene. Все хорошо. Senza preoccupazioni. Senza preoccupazioni. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe. Sono preoccupato per te. Sono preoccupato per te. Io obiettivo per te. Te lo prometto. Te lo prometto. Non è colpa tua. Non è colpa tua. Non è colpa tua. , non è colpa tua. Non è colpa tua. Cercherò di farcela. Io vero in te. Ti credo. Io non ti credo. Non ti credo. Io non ti credo. No, non credo. No, non credo. Mi è unico senza te. Mi sento solo senza di 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 te. Sono affamato. Sono affamato. È unico senza di te. Non significa nulla. Non significa nulla. Non significa nulla. Io oggi sono stanco. Oggi sono stanco. Chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Ti dobbiamo dormire. Ti dobbiamo dormire. È ora che tu vada a letto. È ora che tu vada a letto. Tu pense. Frif良ci. Mandami questo. Mandami questo. Sibili. Ti dobbiamo. Cominciamo. 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 Posso sedermi qui? Posso sedermi qui. Gde ty? Dove sei? Dove sei? Io всегда здесь обедаю. Pranzo sempre qui. Pranzo sempre qui. Io ne adabriaio этого. Non lo approvo. Non lo approvo. Это невкусно. Non è gustoso. Non è gustoso. Vчера я работал допоздна. Ho lavorato fino a tardi ieri sera. Ho lavorato fino a tardi ieri sera. Poi andiamo al cinema stasera? Andiamo al cinema stasera? È costoso. È costoso. È costoso. è costoso. È un buon medico. È un buon medico. È un buon medico. Passami il sale, per favore. Non sembri italiano. Vora di andare a letto. Come hai passato le tue vacanze? Come hai passato le tue vacanze? Eto зачем? A cosa serve quello? A cosa serve quello? Come è stato il tuo fine settimana? Come è stato il tuo fine settimana? Il tuo telefono sta squillando. Il tuo telefono sta squillando. Molto bene. Molto bene. Non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo. Non ho bisogno di così tanto. Non ho bisogno di così tanto. È molto. Che è molto. Che è molto. Questo uomo è dietro di me. Questo uomo è dietro di me. Io volevo un vestito rosso. Volevo un vestito rosso. Io non ho bisogno di così tanto. Non conosco la strada. Non conosco la strada. Perchè così tanti? Perchè così tanti? Io voglio tufli da questo costum. Voglio delle scarpe prima di questo vestito. Voglio delle scarpe prima di questo vestito. Io volevo andare a Tokyo. Mi piacerebbe andare a Tokyo. Mi piacerebbe andare a Tokyo. Seguodnia giarca. Fa caldo oggi. Fa caldo oggi. Poi idem siewodnia kupatsa. Andiamo a nuotare oggi? Andiamo a nuotare oggi. È una lunga camminata da qui al lavoro. È una lunga camminata da qui al lavoro. Poi idem domoi. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Poi idem vmesti. Andiamo insieme. Andiamo insieme. Io non voglio parlare con lui. Io non voglio parlare con lui. Non voglio parlare con lui. Voi idem na uliço. Andiamo fuori. Andiamo fuori. Pomogui padvinuć stol. Aiutare a spostare il tavolo. Aiutare a spostare il tavolo. Hai augurato a Gioanna un buon compleanno? Hai augurato a Gioanna un buon compleanno? Questo non è vero. Questo non è vero. Prinesi mi stu, por favor. Portami una sedia, per favore. Io pensavo che fossi sposato. Pensavo che fossi sposato. Che tu fai fare? Cosa farete? Cosa farete? Questo è il mio telefono. Non mi piace questa cintura. 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 Lo penso anch'io. Lo penso anch'io. Avtobus сегодня переполнен. L'autobus è sovraffollato oggi. L'autobus è sovraffollato oggi. Perché è così sporco qui dentro? Perché è così sporco qui dentro? Perché è così sporco qui dentro? Andiamo domani. Andiamo domani. Andiamo domani. Andiamo domani. C'è un posto dove possiamo parlare. Rispondi a questa domanda per me. Rispondi a questa domanda per me. Io non voglio aiutarvi. Non voglio aiutarvi. È troppo tardi Puoi venirmi a prendere al lavoro? Puoi venirmi a prendere al lavoro? Puoi venirmi a prendere al lavoro? È tutto complicato È tutto complicato Non capisco È facile È facile Cosa fai per vivere? Perché ci vuole così tanto? Perché ci vuole così tanto? Non possiamo assumerti senza un'istruzione Vado a casa Vado a casa Ti aspetterò Ti aspetterò Ti aspetterò Poi andiamo a casa insieme Andiamo a casa insieme Sbrigati 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 Prepararti Prepararti la cena A cosa pensi tutto il tempo? A cosa pensi tutto il tempo? A cosa pensi tutto il tempo? Sono in ritardo Sono in ritardo Io voglio fare un ordine Voglio fare un ordine Voglio fare un ordine Io con te, per favore Io con te, per favore Ho paura Ho paura di essere in ritardo Ho paura di essere in ritardo Non è il mio ordine Non è il mio ordine Posso avere un bicchiere d'acqua? Posso avere un bicchiere d'acqua? Hорошая идея Buona idea Buona idea Ti piace? Užin' očin' vkusnay La cena è deliziosa La cena è deliziosa L'ho quasi fatto L'ho quasi fatto Questo dessert è delizioso Questo dessert è delizioso Quale piatto ti è piaciuto di più? Quale piatto ti è piaciuto di più? Sono assonnato Sono assonnato Posso avere un assegno? Posso avere un assegno? Dov'è il tuo bagno? Dov'è il tuo bagno? Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? È solo È solo Ho bisogno di una pausa Ho bisogno di una pausa Andiamo insieme al supermercato Andiamo insieme al supermercato Posso vedere Guarda laggiù Guarda laggiù Io prosto смотрio Sto solo cercando 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 U vas yest moi rasmér Avete la mia taglia? Avete la mia taglia? Mi è to'interesna Questo mi interessa Questo mi interessa Io хочу Eto Eto Voglio provarlo Voglio provarlo Eto Mala Na Minha Che è Basso su di me Che è Basso su di me Che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Per quanto tempo sei stato lì? Per quanto tempo sei stato lì? Eto Velikò Na Minha Eto Grande su di me Eto Grande su di me Eto 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 Non è la mia taglia Non è la mia taglia Eto Doro Eto Priberi qui dentro. Io voglio questo tornare. Lo rivolgo indietro. Ho una ricevuta. Ho una ricevuta. Come va? Come va? Non c'è connessione. Non c'è connessione. Io vorrei ricevere un pacco. Buongiorno. Buongiorno. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Sì, per favore. Io soglasso. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Где здесь банcomat? Dov'è il bancomat qui? Вы понимаете меня. Mi capisci? Mi capisci? Здесь очень уютно. È molto accogliente. È molto accogliente. Простите, есть ли здесь поблизости аптека? Mi scusi, c'è una farmacia nelle vicinanze. Mi scusi, c'è una farmacia nelle vicinanze. У меня украли кошелёк. Mi hanno rubato il portafoglio. Mi hanno rubato il portafoglio. Ora capisco il tuo punto di vista. Ora capisco il tuo punto di vista. Ho perso il mio passaporto. Ho perso il mio passaporto. Io смотрю новosti. Guardo il telegiornale. Guardo il telegiornale. Будет снег. Ne vicarà. Ne vicarà. Ne vicarà. Это было вчера. Era ieri. Era ieri. Cosa hai fatto oggi? Cosa hai fatto oggi? S'vame всё в порядке. Stai bene? Stai bene? Stai bene? Что здесь случилось? Cosa è successo qui? Cosa è successo qui? Я из России. Vengo dalla Russia. Vengo dalla Russia. Mi piace qui. Sono nato e cresciuto lì. Questi sono i miei genitori. O c'om tu говорis? Di cosa stai parlando? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Io voglio vivere qui. Voglio vivere qui. Voglio vivere qui. È bello qui. È bello qui. Penso di aver trovato la ragione. Penso di aver trovato la ragione. Non riesco a ricordarlo. Non riesco a ricordarlo. Cosa stai guardando? Cosa stai guardando? Cosa stai guardando? Vuoi qualcosa da mangiare? Cosa stai guardando? Cosa stai guardando? Cosa stai guardando? Lo penso anche io. Lo penso anche io. aiutatemi, per favore non mi sento bene l'estate è qui ho ragione voglio davvero andarci voglio davvero andarci te lo ricordi te lo ricordi cosa vorresti bere? cosa vorresti bere? dove sono i tuoi genitori? dove sono i tuoi genitori? здесь нет горячей воды non c'è acqua calda non c'è acqua calda sono molto stanco sono molto stanco questo è il mio consiglio per te questo è il mio consiglio per te mi sento bene mi sento bene lo pensi anche tu? lo pensi anche tu? cosa vendete? cosa vendete? a che prezzo a che prezzo a che prezzo io apprezzo molto lo apprezzo molto felice di vederti felice di vederti felice di vederti non ci vorrà molto tempo non ci vorrà molto tempo per favore abbassa la voce per favore abbassa la voce vuole solo attenzione vuole solo attenzione perché hai detto questo? perché hai detto questo? поздравляю с dnò rождения buon compleanno buon compleanno perché lo chiedete? perché lo chiedete? ti piace giocare a calcio? ti piace giocare a calcio? come è правильно dire? qual è il modo giusto per dirlo? qual è il modo giusto per dirlo? quando ci incontriamo? quando ci incontriamo? io posso venire ora posso venire ora posso venire ora quando ci incontriamo? quando è il tuo compleanno? quando è il tuo compleanno? quando è il tuo compleanno? io non voglio vendere ora non voglio vendere ora A che ora ci incontriamo? Sono libero questo pomeriggio. Cosa ne sai tu? Tu già читavi questa storia? Avete già letto questo documento? Avete già letto questo documento? Tu mi piaci. Tu mi piaci. Io non posso crederci. Non posso crederci. Non posso crederci. Какое прекрасное утро. Che bella mattina. Che bella mattina. Quando avrai finito. Quando avrai finito. Tu кого to ждешь. Stai aspettando qualcuno? Stai aspettando qualcuno? Io oggi sono molto felice. Oggi sono molto felice. Oggi sono molto felice. Sai di cosa sto parlando? Sai di cosa sto parlando? Che tristezza Dov'è la farmacia più vicina? È già buio Come fa a saperlo? Come fa a saperlo? Come fa a saperlo? A che ora ti alzi? Mi alzo alle sette e mezzo Vedrò cosa posso fare Vedrò cosa posso fare Nuvoloso oggi Nuvoloso oggi Ci sono altri posti Magu li io vaiti? Posso entrare? Posso entrare? Dov'è il mio amato marito? Dov'è il mio amato marito? Come posso aiutarla? Come posso aiutarla? Tu id'è molto veloce Stai andando molto veloce Stai andando molto veloce Cosa farai stasera? Io non posso farlo 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 Non ho un lavoro Non ho un lavoro Io esco a lavoro Sto cercando un lavoro Sto cercando un lavoro È tardi È tardi È tardi È tardi Io v'ostorgo Non sono entusiasta Non sono entusiasta Non posso farlo 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 Pomogite mi Aiutami 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 Как я могу найти аэропорт? Come posso trovare l'aeroporto? Come posso trovare l'aeroporto? Подвезете меня сегодня домой Mi dai un passaggio a casa stasera Mi dai un passaggio a casa stasera Mi dai un passaggio a casa stasera Я на своей машине Sono nella mia macchina Sono nella mia macchina Perché glielo hai detto? Perché glielo hai detto? L'autobus è già partito L'autobus è già partito Mi piace imparare Mi piace imparare Mi piace imparare Я очень переживаю Sono molto preoccupato Sono molto preoccupato Я пойду со своими коллегами Andrò con i miei colleghi Andrò con i miei colleghi Come ti senti? Come ti senti? Come ti senti? Quanto è triste Quanto è triste? Встретимся в 8 u входa Incontriamoci alle 8 all'ingresso Incontriamoci alle 8 all'ingresso Atpustite me Mi lascerai andare 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 Quanto fa male? Quanto fa male? Si senti? Hai fame? Hai fame? Hai fame? Mi lascerai andare Non voglio bere Non voglio bere Ne забудь mi poi raccontare Non dimenticare di dirmelo dopo Non dimenticare di dirmelo dopo Qual è il suo cibo preferito? Mi piace molto questo costume Mi piace molto questo costume Incontriamoci di fronte alle otto in punto Incontriamoci di fronte alle otto in punto Spero di trovarla Spero di trovarla Quanto siete fortunati ad averlo? Quanto siete fortunati ad averlo? Vcli ète e sciorrasse Riaccendilo Riaccendilo Ho una domanda per voi Ho una domanda per voi È molto importante È molto importante Allora penso che abbiamo finito qui Allora penso che abbiamo finito qui Sì, è la cosa giusta da fare Sì, è la cosa giusta da fare È questa la tua idea di scherzo? È questa la tua idea di scherzo? Ho bisogno di una pausa 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 Fare attenzione Fare attenzione Fare attenzione Voda è molto холодna L'acqua è molto fredda L'acqua è molto fredda Ti piace qui? Ti piace qui? Buzi è molto fredda Buzi è molto fredda Prestare attenzione Prestare attenzione Cuda ti id'è? Dove stai andando? Dove stai andando? Siamo pronti per ordinare? Siamo pronti per ordinare? Scажи мне что-нибудь Dimmi qualcosa Dimmi qualcosa Io ne понимаю O чем tu говоришь? Non so di cosa stai parlando Non so di cosa stai parlando Mi piace questa lavoro Mi piace questo lavoro Mi piace questo lavoro Io ne хочу сегодня rano vставati Non voglio alzarmi presto oggi Non voglio alzarmi presto oggi Capisci l'italiano? Capisci l'italiano? Capisci l'italiano? Tempo di risveglio Tempo di risveglio Tempo di risveglio Io ti vedo Posso vederti Posso vederti Sto arrivando ora Sto arrivando ora Sto arrivando ora Parla più forte Non ti sento Parla più forte Non ti sento Idiamo отсюда Andiamo da qui Andiamo da qui Sono già qui Sono già qui Sono già qui Eta mia mamma È mia madre È mia madre Nidelia Pered prasnicami Samaya dlinna La settimana Prima delle vacanze È la più lunga La settimana Prima delle vacanze È la più lunga Tu знаешь Qual è Seguodni Cislo Sai Che giorno È? Sai Che giorno È? Io Vado 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 O c'è Vado C'è Cosa Stai Pensando A cosa Stai Pensando Io объясnu Eto Pton Lo Spiegerò Più Tardi Lo spiegherò più tardi. Guarda cosa ti ho preso. È molto doloroso qui. Mi piace il cibo fatto in casa. Basta leggere questo articolo. Basta leggere questo articolo. Qui non si fuma. Qui non si fuma. Это стоит 21 dollari. Costa 21 dollari. Costa 21 dollari. Io ne знаю. Non lo so. Non lo so. Io знаю, что делать я не должен. So cosa non dovrei fare. So cosa non dovrei fare. У вас все правильно. Hai capito bene. Hai capito bene. Avete un posto molto accogliente. Avete un posto molto accogliente. Здесь темно. Включи, пожалуйста, свет. È buio qui. Puoi accendere la luce. Per favore. È buio qui. Puoi accendere la luce. Per favore. Вы хорошо все сделали. Avete fatto bene. Avete fatto bene. Вы плохо все сделали. Hai fatto male. Hai fatto male. Меня зовут Джоанна Смит. Il mio nome è Джоанна Смит. Il mio nome è Джоанна Смит. Давай придем сюда завтра. Veniamo qui domani. Veniamo qui domani. Я не хочу принимать участие в этом споре. Non voglio essere coinvolto in questa discussione. Non voglio essere coinvolto in questa discussione. Я не хочу разговаривать. Non voglio parlare. Non voglio parlare. Это уже не секрет. Non è più un segreto. Non è più un segreto. Я не знаю этих людей. Non conosco queste persone. Non conosco queste persone. Почему ты так думаешь? Perché lo pensa? Perché lo pensa? Подвези меня до работы. Darmi un passaggio al lavoro. Darmi un passaggio al lavoro. Я не успеваю. Non ho tempo. Non ho tempo. Присядь рядом со мной. Siediti accanto a me. Siediti accanto a me. Che tu? Cosa farei domani? Cosa farai domani? Ho un mal di testa So dove vivono Hai un'auto costosa Rascажи мне ещё об этом Dimmi di più su questo Perché stai piangendo? Perché stai piangendo? Non è interessante Ho intenzione di comprare un nuovo appartamento Ho intenzione di comprare un nuovo appartamento Perché la sostiene? Perché la sostiene? Ho nevicato ieri Ho nevicato ieri Queste cose sono mie Queste cose sono mie È molto doloroso È molto doloroso Non so perché devo fare questo Non so perché devo fare questo Questo tavolo è grigio Questo tavolo è grigio Io voglio capirlo da solo Voglio capirlo da solo Non fa parte del mio lavoro Non fa parte del mio lavoro Povteriai Povteriai Ripetere dopo di me Ripetere dopo di me Ho pensato che sarebbe stato più facile Ho pensato che sarebbe stato più facile Iniziamo a lavorare alle 10 Iniziamo a lavorare alle 10 Perché mi accusate? Perché mi accusate? Sei molto ospitale Sei molto ospitale Posso vedere? Posso vedere? Possiamo vederlo ? Aspetterò altri quindici minuti Sono arrivato oggi Sono arrivato oggi Pajalusta, ne schumi Per favore, tenete basso il rumore Per favore, tenete basso il rumore Perché non hai pensato? Non hai portato fuori la spazzatura Perché non hai portato fuori la spazzatura? Io adesso vado Arrivo subito Arrivo subito Possiamo uscire per un caffè? Possiamo uscire per un caffè? Hai già pagato il conto? Hai già pagato il conto? Aspettami per qualche minuto Aspettami per qualche minuto Io d'oci lubit igrati v tennis A sua figlia piace giocare a tennis A sua figlia piace giocare a tennis Pazvoni mi na выходnich Chiamami nel fine settimana Chiamami nel fine settimana Non conosco la risposta a questa domanda Non conosco la risposta a questa domanda Давай что-нибудь выпьем Beviamo qualcosa Beviamo qualcosa Come ha ottenuto questo lavoro? È molto depresso È molto depresso È molto depresso Dove è la banca più vicina da queste parti? Dove è la banca più vicina da queste parti? Все зависит от тебя Depende da te Depende da te Oggi ho tempo Ho dimenticato di chiudere la porta Ho dimenticato di chiudere la porta Questo braccialetto è molto costoso Io oggi non vado a lavorare Oggi non vado a lavorare Oggi non vado a lavorare Non voglio ammalarmi Non voglio ammalarmi Quale di questi regali è migliore? Quale di questi regali è migliore? Comprami questi orecchini? Comprami questi orecchini Tu già stai bene ora? Stai bene ora? Stai bene ora? Non voglio ammalarmi Non voglio ammalarmi Io voglio ammalarmi Io voglio ammalarmi Non voglio ammalarmi Non mi piace Non mi piace Vosso nome e adres Pajalusta Il tuo nome e indirizzo Per favore Il tuo nome e indirizzo Per favore Io oggi ho fatto lo stesso Ho fatto la stessa cosa oggi Ho fatto la stessa cosa oggi Il mio obiettivo è diventare un medico Il mio obiettivo è diventare un medico Come fai a farlo così velocemente? Come fai a farlo così velocemente? Io здесь нет Anna пошla domoi Non è qui È andata a casa Non è qui È andata a casa Posso pensarci ancora un po'? Posso pensarci ancora un po'? Posso pensarci ancora un po'? Io lavoro in questo hotel Lavoro in questo hotel Lavoro in questo hotel Io manager Sono il direttore Sono il direttore Io могу быстро бегать Posso correre veloce Posso correre veloce Siamo già attesi Siamo già attesi Come mi hai trovato? Come mi hai trovato? Ecco la mia casa Ecco la mia casa Ecco la mia casa Non mi piace questo colore Non mi piace questo colore Non mi piace questo colore Io speravo di risparmiare questo mese Spero di risparmiare questo mese Кстати, tu свободna сегодня после работы A proposito, sei libero dopo il lavoro oggi? A proposito, sei libero dopo il lavoro oggi? Как прошel tвой день? Come è stata la tua giornata? Come è stata la tua giornata? Я хорошо понимаю итальянский, но пока плохо говорю на нём Capisco bene l'italiano, ma non lo parlo ancora bene Capisco bene l'italiano, ma non lo parlo ancora bene Non può essere Non può essere Non voglio lavorare qui Non voglio lavorare qui Si prega di fare questo lavoro rapidamente Questo non è vero Questo non è vero Questo è ciò di cui abbiamo bisogno Questo è ciò di cui abbiamo bisogno Posso pagare con la carta di credito? Posso pagare con la carta di credito? Sì, dimmi di più su questo Sì, dimmi di più su questo Aiutami a preparare la tavola Aiutami a preparare la tavola Ora mi sto allenando Ora mi sto allenando Eda in un'alto Cibo da frigo Cibo da frigo Cibo da frigo Scusate se ce ne siamo andati così presto Scusate se ce ne siamo andati così presto C'è altro di cui hai bisogno? C'è altro di cui hai bisogno? C'è altro di cui hai bisogno? У вас есть скидки Avete sconti? Avete sconti? Это моя комната Questa è la mia stanza Questa è la mia stanza Questo hotel è stato costruito cinque anni fa Ecco una camera chic con vista sul mare Hai i soldi per il viaggio? Non troveremo mai un compromesso Non troveremo mai un compromesso Il maltempo ha causato la cancellazione del nostro volo Il maltempo ha causato la cancellazione del nostro volo Sono d'accordo con te su questo Sono d'accordo con te su questo Non conosco la risposta a questa domanda Non conosco la risposta a questa domanda Chi ha bisogno di aiuto qui? Chi ha bisogno di aiuto qui? Rispondimi Rispondimi La metropolitana ci porterà lì nella metà del tempo La metropolitana ci porterà lì nella metà del tempo Ci siamo divertiti molto oggi Ci siamo divertiti molto oggi Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? Pajalusta, addai mi questo Per favore dammi questo Per favore dammi questo Per favore dammi questo Oggi mi sono svegliato presto Oggi mi sono svegliato presto Dai mi da parlare Lasciami finire Lasciami finire Lasciami finire Cene na producte rastut быстро I prezzi del cibo stanno aumentando rapidamente I prezzi del cibo stanno aumentando rapidamente I prezzi del cibo stanno aumentando rapidamente Posso controllare? Posso controllare? Io anche amo la dolce Anche a me piacciono i dolci Anche a me piacciono i dolci Mi è già meglio Mi sento già meglio Mi sento già meglio Non mi è permesso dirvi che Non mi è permesso dirvi che Non mi è permesso dirvi che Siamo tutti molto stanchi Siamo tutti molto stanchi Siamo tutti molto stanchi I miei genitori non mi danno soldi C'è un errore Abbiamo giocato a calcio ieri Abbiamo giocato a calcio ieri Hai lavato i miei vestiti? Hai lavato i miei vestiti? Stai mentendo Stai mentendo Stai mentendo Qui non fa quasi mai freddo Qui non fa quasi mai freddo Nessuno mi ascolta comunque Nessuno mi ascolta comunque Nessuno mi ascolta comunque Sto preparando la cena Sto preparando la cena Io ho speso tutti i miei soldi per venire qui Ho speso tutti i miei soldi per venire qui Ho speso tutti i miei soldi per venire qui Ci siamo trasferiti in una grande casa Ci siamo trasferiti in una grande casa Ho comprato un vestito nuovo 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 La mia famiglia va in Giappone ogni anno La mia famiglia va in Giappone ogni anno Poi andiamo al supermercato Andiamo al supermercato? Andiamo al supermercato? Vi adatterete presto a questo nuovo clima Vi adatterete presto a questo nuovo clima Poi andiamo al supermercato Poi andiamo al supermercato Prova questo clima Prova questo clima Prova questo clima Non vedo come questo possa essere vero Non vedo come questo possa essere vero Ti piace la frutta? Ti piace la frutta? Ti piace la frutta? Questo è esattamente quello che volevo Questo è esattamente quello che volevo Perché? 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 L'hai già imparato? Questi stivali sono caldi? Cosa stiamo celebrando? È venuto a vivere con me. È venuto a vivere con me. Da quanto tempo state aspettando? Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Procitate, per favore. Si prega di leggere. Si prega di leggere. Mi piace il tuo pensiero. Mi piace il tuo pensiero. Ho una famiglia? Ho una famiglia? Ho una famiglia? Di cosa si occupano i membri della tua famiglia? Di cosa si occupano i membri della tua famiglia? Nessuno ti ascolta. Nessuno ti ascolta. I suoi figli vanno a scuola? I suoi figli vanno a scuola. Grazie per il vostro sostegno. Grazie per il vostro sostegno. Come si chiamano i tuoi genitori? Come si chiamano i tuoi genitori? Come si chiamano i tuoi genitori? Prova queste scarpe. Podai di сюда. Vieni qui. Vieni qui. Eta parà usanavilla ребенка. La coppia ha adottato un bambino. La coppia ha adottato un bambino. Perizvoni mi через час. Richiamami tra un'ora. Richiamami tra un'ora. Eta parà usano. Tu'viate. Eta parà usano. Sei un adulto, vero? Sei un adulto, vero? Postrì tutta. Guarda laggiù. Guarda laggiù. È solo un bambino Viviamo insieme Come è succeso? Tu aiutando i tuoi genitori? Stai aiutando i tuoi genitori? Parto domani Parto domani Mia madre è un avvocato Mia madre è un avvocato Ne hai qualcuno di nativo? Ne hai qualcuno di nativo? Tutto può essere imparato Tutto può essere imparato È fidanzato, vero? È fidanzato, vero? U nich adin riebionok Hanno un figlio Hanno un figlio È fidanzato, vero? È fidanzato, vero? Quel vestito ti sta bene? Quel vestito ti sta bene? Pocagite mi la strada? Mostrami la strada Io umeio читare So leggere l'italiano So leggere l'italiano Non c'è bisogno di litigare Non c'è bisogno di litigare Vnutri ti plei C'è msnarouche Più caldo dentro che fuori Più caldo dentro che fuori Più caldo dentro che fuori Io più oltre Io più oltre Preferisco non dire nulla Preferisco non dire nulla Piove ancora Piove ancora Ci vediamo spesso Nei fine settimana Ci vediamo spesso Nei fine settimana Dajte mi подумat Lasciatemi pensare Lasciatemi pensare Podai di Ceres Pocisa Torna tra mezz'ora Torna tra mezz'ora Torna tra mezz'ora Io Zamecetelne Igraio Na fortepiano Sono bravissimo Al pianoforte Sono bravissimo Al pianoforte Sono preoccupato Per te Sono preoccupato Per te Per te È un'ottima amica È un'ottima amica E un'ottima amica Scolica im let Quanti anni hanno? Quanti anni hanno? Quanti anni hanno? Dove studiano? Dove studiano? Dove studiano? Dove studiano? E la carta Per la stampante Diti Zavisit At Tiba I bambini Dipendono Da te I bambini Dipendono Da te Io Adesso Vedo Ora Darò Un'occhiata Ora Darò Un'occhiata È buio fuori oggi È buio fuori oggi Dove è la tua chiave? Dove è la tua chiave? Ti Zacrillo Dvier Hai Chiuso La Porta? Hai Chiuso La Porta? Nasa Ashtonovka Sleduusche La Nostra Fermata È La Prossima La Nostra Fermata È La Prossima Vanno D'accordo Vanno D'accordo Это Здание Огромное Questo Edificio È Enorme Questo Edificio È Enorme Rascажи Что Nibuć Об Etich Jivot Nih Dicci Qualcosa Su Questi Animali Dicci Qualcosa Su Questi Animali Questo Edificio Postruito Nel Prosh Lom Vec Questo Edificio È Stato Costruito Nel Secolo Scorso Questo Edificio È Stato Costruito Nel Secolo Scorso Puoi Entrare Senza Permesso Puoi Entrare Senza Permesso Io Vstrichаюсь Nim Esco Con Lui Esco Con Lui Gde Oni Jivot Dove Vivono Dove Vivono Cak Cęsta Vy S Nimi Viditys Quanto Spes S Livedi Sosiedka Adsudstuola Doma Dniei Pięć Un Vicino È Stato Via Da Casa Per Cinque Giorni Un Vicino È Stato Via Da Casa Per Cinque Giorni Nuz Nuz Nodagnać Etowa Muccino Dobbiamo Raggiungere Quest'uomo Dobbiamo Raggiungere Quest'uomo Ty Vid Novinky Sei Nuovo Vero Sei Nuovo Vero Oggi Sono Tornato Da Un Viaggio Di Lavoro Oggi Sono Tornato Da Un Viaggio Di Lavoro Che Ti Ti Vyt Ries Stol Con Cosa Pulisci Il Tavolo Con Cosa Pulisci Il Tavolo Che Ti 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 Prendete Cos'altro Posso Offrirti Cos'altro Chi Ti Ti Che Insenato A Fare Locchiolino Che Ti Ha Insegnato A Fare Locchiolino Magu Ja Shodit W Dus Posso Fare Una Doccia Posso Fare Una Doccia Posso leggere facilmente l'italiano Posso leggere facilmente l'italiano La porta è aperta, entrate La porta è aperta, entrate Posso affittare una stanza d'albergo da voi per qualche giorno Posso affittare una stanza d'albergo da voi per qualche giorno Queste sono scatole vuote Vorrei poterti capire Vorrei poterti capire Io perizvano позже, а лучше завтра Richiamerò più tardi, preferibilmente domani Richiamerò più tardi, preferibilmente domani Non dimenticare quello che mi hai promesso Non dimenticare quello che mi hai promesso Faccia una copia del suo passaporto Faccia una copia del suo passaporto Vado in palestra due volte a settimana Vado in palestra due volte a settimana Alcune persone sono molto permalose Alcune persone sono molto permalose Nужna utesite этого человека Quest'uomo ha bisogno di essere confortato Quest'uomo ha bisogno di essere confortato Posso avere un taglio di capelli e una pettinatura Posso avere un taglio di capelli e una pettinatura Rallentare lentamente Rallentare lentamente Ci siamo divertiti Ci siamo divertiti Devo partire domani Devo partire domani Stavamo solo parlando Stavamo solo parlando Providiamo Certo Mi chiedo se lei accetterà la sua offerta Mi chiedo se lei accetterà la sua offerta Dieti stradают от поступков взрослых I bambini soffrono per le azioni degli adulti I bambini soffrono per le azioni degli adulti Bessмысленно ждать от него взаимности È inutile aspettarsi che lui ricambi Cosa dovrei regalargli? Cosa dovrei regalargli? Хотите торт? Vuoi un po' di torta? Vuoi un po' di torta? Spasibo, я не ем сладкое Grazie, non mangio dolci Grazie, non mangio dolci Sì, mi piacerebbe molto Sì, mi piacerebbe molto Spesso si siede qui da solo Spesso si siede qui da solo У тебя есть право Ha una licenza? Ha una licenza? Ne boise ошибиться в ответе Non aver paura di sbagliare la risposta Non aver paura di sbagliare la risposta Da quanto tempo stati insieme? Da quanto tempo stati insieme? У вас есть рецепт на эти лекарства? Ha una prescrizione per queste medicine? Ha una prescrizione per queste medicine? Нужно отдохнуть пару минут Bisogno di riposare per qualche minuto Bisogno di riposare per qualche minuto Я все равно пойду с тобой Verrò con te comunque Verrò con te comunque Ты не хочешь меня понять? Non vuoi capirmi? Non vuoi capirmi? Можешь даже не спрашивать Non c'è nemmeno bisogno di chiedere Non c'è nemmeno bisogno di chiedere Срочно нужно вызвать пожарных I vigili del fuoco devono essere chiamati urgentemente I vigili del fuoco devono essere chiamati urgentemente Мне нужна твоя помощь здесь Ho bisogno del tuo aiuto qui Ho bisogno del tuo aiuto qui Ты получил разрешение Hai avuto il permesso? Hai avuto il permesso? У меня большой опыт работы Ho molta esperienza Ho molta esperienza Я немного переживаю Sono un po' preoccupato Sono un po' preoccupato Ты правильно все понял Hai capito bene Hai capito bene Я сейчас очень голоден Sono davvero affamato In questo momento Sono davvero affamato In questo momento Я сожалею Что так сказал Mi dispiace di averlo detto Mi dispiace di averlo detto Что в коробках? Cosa c'è nelle scatole? Cosa c'è nelle scatole? У меня есть предложение Ho un suggerimento Ho un suggerimento Как давно вы знакомы? Да quanto tempo ви conoscете? Да quanto tempo ви conoscете? Тебе не было прошлой ночью Sei stato fuori ieri sera? Sei stato fuori ieri sera? Давай сейчас пообедаем Andiamo a pranzo ora Andiamo a pranzo ora Я никогда не смогу Non potrei mai Non potrei mai Снаружи кажется тепло Sembra caldo all'esterno Sembra caldo all'esterno Он очень подавлен Он очень подавлен È molto depresso È molto depresso Я сейчас очень голоден Sono davvero affamato in questo momento Sono davvero affamato in questo momento I miei genitori si fidano di me I miei genitori si fidano di me Они живут этажом выше I miei genitori si fidano di me I miei genitori si fidano di me Сегодня я проснулся пораньше Oggi mi sono svegliato presto Oggi mi sono svegliato presto Я приехал как раз вовремя Sono arrivato giusto in tempo Sono arrivato giusto in tempo Я не очень люблю пирожные Non mi piacciono molto le torte Non mi piacciono molto le torte Мне трудно ответить на этот вопрос È difficile per me rispondere a questa domanda È difficile per me rispondere a questa domanda C'è un telefono pubblico da queste parti C'è un telefono pubblico da queste parti Я хочу все вернуть RIVOLIO TUTTO INDIETRO RIVOLIO TUTTO INDIETRO Он находится за углом È proprio dietro l'angolo È proprio dietro l'angolo Мне здесь одиноко Mi sento solo qui Mi sento solo qui Я возьму вот это Questo lo prendo io Questo lo prendo io В этом я с тобой согласен Sono d'accordo con te su questo Sono d'accordo con te su questo Вы можете написать здесь Puoi scrivere qui? Мogu io uvas coi che sprosi Posso chiederti una cosa? Posso chiederti una cosa? Ты сам сделал эту работу Hai fatto il lavoro da solo? Hai fatto il lavoro da solo? Давай поедем прямо сейчас Andiamo subito Andiamo subito Подними его И убери на место Raccoglierlo И rimetterlo A posto Raccoglierlo И rimetterlo A posto Не поднимай его Пока я работаю Non prenderlo Mentre sto lavorando Non prenderlo Non prenderlo Mentre sto lavorando Mentre sto lavorando Я uезжаю На следующей неделе Parto la prossima settimana Parto la prossima settimana Никто не может меня остановить Nessuno Nessuno può fermarmi Nessuno Può fermarmi Я скоро Напишу тебе Ti manderò presto Un messaggio Ti manderò presto Un messaggio У тебя красивый Загар Hai una bella Abronzatura Hai una bella Abronzatura Я хочу Посмотреть Новости Voglio Guardare Le notizie Voglio Guardare Le notizie Здесь Свободна È Gratis È Gratis Можно присесть Posso sedermi Posso sedermi Da Prisagivайтесь Здесь не занята Sì Siediti Non è occupato Sì Siediti Non è occupato Tu живешь один Vive da solo Vive da solo Io хочу выпить горячий чай Voglio bere del tè caldo Voglio bere del tè caldo continuate a fare un buon lavoro continuate a fare un buon lavoro Mi sto divertendo molto con i miei amici Mi sto divertendo molto con i miei amici tibì tibì sivodnia bella interessa Eri interessato oggi Eri interessato oggi questo film non è questo film non è affatto interessante questo film non è affatto interessante Io lo farò ora lo farò ora ti puoi sollevare questo tavolo puoi sollevare questo tavolo io получил premio ho ricevuto un premio ho ricevuto un premio ho ricevuto un premio ho ricevuto un premio сообщite mi mi rispissanie i zaranei fatemi sapere il programma in anticipo fatemi sapere il programma in anticipo qual è il problema qual è il problema io смотрio lo sto guardando lo sto guardando cosa ti porta in questa città cosa ti porta in questa città io voglio la torta voglio la torta portami le chiavi della macchina portami le chiavi della macchina pozwoli mi vziet tvoio palto lasciami prendere il tuo cappotto lasciami prendere il tuo cappotto trovo difficile capire la ragione trovo difficile capire la ragione приходit avtobus l'autobus arriva l'autobus arriva l'autobus arriva l'autobus arriva l'autobus arriva l'autobus arriva Puoi farlo di nuovo? Non posso sentirti. Cosa fai per vivere? Cosa fai per vivere? Aspettami per qualche minuto. Preferisco non dire nulla. Preferisco non dire nulla. C'è una strada da attraversare. C'è una strada da attraversare. Hai sbagliato tutto. Hai sbagliato tutto. Il contrario. Il contrario. È il momento di uscire. È il momento di uscire. Prima di uscire. Dammi un esempio. Dammi un esempio. Dammi un esempio. Io vorrei andare a fare la spesa. Vorrei andare a fare la spesa. Cosa fai per vivere? Cosa fai per vivere? Cosa fai per vivere? Comituci. Cosa fai per vivere? Hai la strada di vivere. È sempre tempo perك. C'è sempre tempo per te. A quale piano vuoi andare? Le porte sono ancora chiuse. Le porte sono ancora chiuse.